Dubito che nei supermercati tu possa trovare vini scaffali del 2020 e del 2019, quindi vini bianchi fermi da invecchiamento, perché sono una cosa diversa e di solito non sono vini da scaffali dal supermercato. I vini bianchi da invecchiamento sono quella categoria di vini che adatti appunto possono invecchiare nel tempo e in questo affinarsi nel tempo vanno a sviluppare ulteriore complessità e profondità, quindi vini bianchi fermi che possono fare questo ci sono. Quindi sono quei vini che se tu li bevi in annata sono chiusi, sono imbevibili, sono vini bianchi fermi che hanno bisogno di tempo, a volte anche anni. Dubito quindi che in uno scaffale del supermercato tu possa trovare dei Riesling della Germania, dell'Alsazia, della Mosella, del Rheingau, che sono delle zone dove ci sono sia i vini semplici, ma ci sono quei Riesling da invecchiamento nel tempo che sviluppano quella complessità e profondità che nel caso del Riesling sviluppano la sensazione di idrocarburi, di frutta secca, di ricordi di miele, eccetera, eccetera. E dubito anche che tu possa trovare i grandi Chardonnay della Borgogna, dubito che tu possa trovare dei Mersot, dei Puligny Montrachet, degli Chablis, cioè tutti i vini che sviluppano nel loro, nel tempo, quelle bellissime sensazioni di minerali, di burro, di nocciola, sono tutte cose molto particolari che secondo me quella tipologia di vini che è anche costosa, perché comunque per gli anni vini costosi tu possa trovarli negli scaffali di un supermercato. Così, così, come dubito anche che tu possa trovare alcuni vini del Bordeaux, che tu possa trovare del Sémillon, dei Barzac, che tu possa trovare dei Sautern, che nel loro sviluppo, nel loro tempo, vanno a sviluppare degli odori particolari di frutta cambita, di spezie, di miele, sì, magari potessi trovare un Sautern minore, una robina semplice, ma insomma, i grandi vini, i vini bianchi fermi da invecchiamento, di solito, sono quelli che definiscono i grandi vini, no? Ok, quindi, dubito fortemente che tu possa trovare questa tipologia di vini, dubito anche che tu possa trovare certi vini bianchi, tipo, che ne so, degli Chilin Blanc, della Loira, ma dubito anche che tu possa trovare dei, ecco, aspetta, potresti trovare dei fiani, del fiano di Avellino 2020, potresti trovare del fiano di Avellino 2019, il fiano di Avellino si presta al invecchiamento, al miglioramento, però è chiaro anche che dipende dall'azienda, perché a volte hai dei fiani di Avellino che sono delle robine, che chiaramente non tengono l'invecchiamento, ci sono dei fiano di Avellino importanti che invece l'invecchiamento lo tengono altro che è, molto bene, ti faccio un esempio, il cortese, il cortese, parliamo di Gavi in questo caso, ecco, ci sono alcune tipologie di vini, di Gavi, fatto appunto col cortese, che vanno a sviluppare nel tempo, le note aromatiche, le note minerali, eccetera, eccetera, quindi molto interessanti, oppure provo a pensare a certi verdicchi delle marche, che in fase evoluta, una volta mi ricorderò sempre una verticale meravigliosa, hanno odore di idrocarburi, di spezie, di miele, eccetera, eccetera, sia Iesi che Matelica, e quindi non facciamo differenza, ma devono essere verdicchi importanti di, insomma, determinate aziende, non quello che trovi nello scaffale da supermercato. Alcuni terminano d'Abruzzo, sviluppano delle note meravigliose di frutta secca, fiori in fase di evoluzione, ok? Dubito, ripeto, che tu possa trovare queste cose nei scaffali di un normale supermercato, che magari ha di minellini 2019-2020, e deve semplicemente liberarsi di determinate cose che gli sono rimaste in magazzino. Dubito.